Oggi 27 agosto, ragazzi, riprende un posto al sole, ho perso il conto, la diciassettesima serie, eh sì, 96, 2012, 2013, la diciassettesima serie un posto al sole riprende, ragazzi, è il 27 agosto, ragazzi, vi aspetto questa sera, andate qua, ciao! Oh, le aspettiamo stasera, passate parola, ciao! Più forse in questo momento, hai cazzato con te stesso, nel senso di dire, io ti ho fretta, se ci si deve trovare una soluzione del seno assente, e questo è il cambiamento, ho capito che si deve notare in questo effetto, anche il fatto di accettare che non c'è se a te, tu lo fai per cura a te, primo perché senti, probabilmente Gianluca si vuole adottare, e te lo fai per cura a te, ciao! Ciao! Ciao, stasera mia minuta! Ciao, stasera mia minuta! Ciao, stasera mia minuta! Ciao! 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 Stasera ritorniamo in onda con un posto al sole, mi raccomando eh! Sì, ciao! Sì, ciao! Allora, come sono andate le vacanze? Bene? Avete godzovigliato? Siete pronti? Si ritorna, 27 di agosto, fai qui! Pronti? Se avete qualche disturbo passate dal dottor Marotta che ci pensa anche. Stasera andiamo in onda eh? Non ci tradite, non ci abbandonate, seguitici. Sì, ciao! Qui le vacanze non finiscono mai, siamo di nuovo qui al 27 agosto se vi parte. Baci! Il video e la musica. Alberto Palladini, il tuo rivale, nonché complice. Mi fanno la gamba, come Raffaele Giordano, anche io che sono quello che fa la parte di Patrizio, cioè Raffaele Giordano, sia io che Raffaele abbiamo male alla gamba, però Raffaele è piccolo, non potrò più giocare al pallone, è pure l'età giusta per esplodere. Non siamo qua, andiamo al mare, siamo a Borgo Marinare? Ah, già mi sento meglio, vedi? Oh, a festa di dire, ci ammettiamo. Signori, siamo qua, vacanze estive, ve le concediamo a settembre però, noi siamo di nuovo qua a lavorare. Non puoi prendere, vedi? Stai concedendo, non puoi avvisare, a settembre, a settembre siamo di nuovo in onda, vedi? No, 27 agosto siamo in onda. Ragazzi, io stavo qua apposta per non farmi fare quello che aveva, non fosse nuovo fatto io. Il 27 agosto, dopo il mio compleanno, no, il 26 agosto è in onda, vedi? Siamo di nuovo in onda, per questo dato proprio di una pausa brevissima, dal 15, no, dal 12, dal 10, dal 10, dal 26, due settimane di stop. Giocati questi numeri che sto dando a caso, e può essere che vi ho dato un ulteriore regalo per le vedi. Una gamba. Grazie a tutti. Grazie per la visione!